Vedendo comunque che con i tamponi rapidi sono uscite molte persone positive, secondo me è sempre meglio fare un doppio controllo. Anche col fatto che c'è stata la partita degli europei in Inghilterra, ho conosciuto amici e colleghi che sono stati allo stadio, hanno fatto il tampone rapido prima di entrare e sono risultati positivi il giorno dopo. E questa la testimonianza di Noemi, la prima passeggera a sottoporsi al tampone molecolare appena scesa dal volo arrivato da Londra. Il primo dopo l'ordinanza della regione Abruzzo che a seguito del costante incremento della variante Delta ha deciso di sottoporre a tampone molecolare chiunque arrivi da fuori nazione, soprattutto Malta, Spagna e Regno Unito. Le attività sono cominciate nella giornata di ieri quando sono stati controllati già una settantina di passeggeri. È un'azione condivisa con la regione Abruzzo in cui crediamo tutti gli operatori, noi come Saga, la regione Abruzzo, l'ASL, l'USMAF e tra l'altro per i primi giorni abbiamo riscontrato anche un buon tasso di partecipazione che ci lascia sereni per il futuro. Oggi è arrivato questo volo da Londra, che è anche un po' il centro principale di questa variante Delta. E voi subito pronti a effettuare i tamponi. Ricordiamo anche che per chi arriva da Londra c'è comunque la quarantena di cinque giorni. Esattamente, questo già era previsto prima dell'iniziativa della regione con il tampone obbligatorio alla discesa dall'aeroporto. E continua questa misura. In più c'è questo tampone obbligatorio che fa stare sereno sia i passeggeri sia tutti i residenti della regione Abruzzo. Ieri è arrivato il primo aereo da Malta e ci siamo fatti trovare i pronti come struttura aeroportuale. C'è stato un alto tasso di partecipazione, 65 su 70 passeggeri arrivati hanno effettuato il tampone. I risultati non li sappiamo, probabilmente neanche li sapremo perché sono dati riservati e sensibili che l'ASL ha in suo possesso e comunicherà gli eventuali positivi. Nei prossimi giorni comunque arriveranno altri voli e voi siete già pronti per continuare questo screening di massa? Sì, sono molto felice sia del primo giorno sia di come abbiamo impostato insieme alla ASL e all'USMAF, l'unità di sanità marittima, l'impostazione proprio logistica. Abbiamo un volo a giorno tutti i giorni e il sabato 2, tra cui quello proveniente da Londra che arriva alle 10 di sera dove abbiamo già chiesto a tutti gli operatori di rafforzare le unità di personale per non far stare troppo tempo in aeroporto e magari scavallare oltre la mezzanotte i passeggeri e recare qualche disguido, qualche brutta esperienza a chiunque scenda da Londra.